Domenica 11 giugno, giorno di elezioni amministrative per oltre mille comuni d'Italia. Urne aperte, quindi dalle 7 alle 23, per oltre un milione di cittadini. Nelle Marche sono 18 i comuni che devono decidere il proprio primo cittadino e 4 nella provincia di Pesaro Urbino, Frontino, Tavoleto, Colli al Metauro e Terre Roveresche. Per questi ultimi due è un giorno dalla doppia valenza, perché sono due neoidentità formate dalla fusione di altri comuni e rappresenta la prima volta di voto congiunto dei cittadini. Per decidere il primo cittadino della storia di Terre Roveresche andranno al voto 5.624 cittadini di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro. I candidati sono Antonio Sebastianelli, lista civica Uniti per Unire, e Maurizio Cionna, lista civica Noi Siamo. Invece per i neo cittadini di Colli al Metauro, 12.452 provenienti da Saltara, Serra Ungarina e Montemaggiore, che vanno al voto con il Tar che deve ancora pronunciarsi sul ricorso presentato dal Comitato del No. I candidati sono Stefano Guzzi, lista civica Uniti con Aguzzi Sindaco, Paolo Del Moro, lista civica Del Moro, Michela Ubaldi, lista civica Vivi il tuo territorio. Paolo Del Moro, lista civica Uniti con Aguzzi Sindaco,